Fai sgher preferita? Ma che cazzo di domande mi fai? Scusi, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Geri Alivello ovviamente. Ti pareva. Ti pareva perché? Che vuoi dire? Geri, la più volgare. Non si dice volgare, si dice eccentrica, è una qualità. Ma che qualità, che qualità, quella faccia a maialino sembrava un Muppet. E poi signor Gustavo, diciamola la verità, si truccava da prostituta. E di zoccola. Da zoccola, si truccava da zoccola. E invece no, era ruspanta, era autentica, era dei frascati, non so come dire. E poi non è che fossi questa performer così egregia. Vabbè, allora voglio sentire qual è la preferita del principino. Dai. Melsi. Ma chi è Alella? Come scusi? Alella, lesbica, magna vongoli, come la vuoi chiamare? Questa prosodia così volgare. Ma che avrò detto? Niente, comunque non è lesbica. Chi? Melsi, non è lesbica. Ma dai, lo sapevano tutti, una vista più lei che te. Sporty Spice, ha capito? Atletica, sobria, un po' un maschiaccio, questo glielo concedo, ma non lesbica. Certo, se lei me la paragona a quel troione di Geri. Ma boi mette? Che sembra che l'hanno appena preso sulla salaria. Voglio dire, sembra meno femminile. Ma era molto, molto più femminile, Melsi. Molto più femminile. Ah. Comunque, non ci stanno più le boy band de una volta. Questo è vero. Questo è vero. Pensa ai dead dead, per esempio. Una boy band che portava avanti un discorso di emancipazione giovanile, di rinnovamento dei costumi, della sessualità. Ma che rinnovamento? Che costumi? Quel discorso di lotta di classe. La lotta di classe? Ma che c'entra con i dead dead? Ma stai scherzando. I dead dead erano come il partito comunista. Gary Barlow, Mark Owen, Robbie Williams erano come a Mendola, Gramsci, Togliatti, Longo, così diversi, ma tutti belli e ognuno a modo suo. Poi però il tempo passa. La compattezza del gruppo si sgretola sotto il peso e gli ideali e finisce tutto in magri tentativi di imitazione. Rifondazione comunista. PDC, PDS, poi DS, Margherita. E adesso? Adesso chi ha raccolto l'eredità di tutto questo?